Mercoledì 22 giugno, San Paolino di Nola. È il 173esimo giorno. Dall'inizio dell'anno ne mancano 192 al termine. Il sole sorge alle 5.22 e tramonta alle 21.03. La luna si leva alle 1.57 e tramonta alle 14.35. Dopo ben 20 anni di carica muore il doge Leonardo Loredan dopo 8 anni di malattia. Aveva avuto tanto credito all'estero che i regnanti mandavano i missari a Venezia per studiare e ottenere copia delle sue leggi. Ripose in una tomba monumentale ai Santissimi Giovanni e Paolo. Le previsioni per domani. In prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia più probabile sulle Dolomiti. Temperature notturne senza variazioni di rilievo sulla pianura e in calo sui monti. Temperature diurne in aumento. A presto.